Luca Garitano, partiamo dalle emozioni, tu ne provate tante nella tua carriera nonostante sia molto giovane, ma quelle che stai provando e proverai in rosso e blu hanno un sapore diverso. Beh, senz'altro, io sono emozionatissimo di vestire questa maglia che è stata mia fin quando ero bambino, quindi sono un tifoso del Cosenza, un cosentino e credo sia un onore poter indossare questa maglia. Con l'Inter, con il Cesena, con il Chievo, hai pensato mai in Cosentino, in Calabrese? Sempre, quotidianamente, io sono nato qua, poi a 14 anni sono andato via, sono molto contento della mia carriera fin qui, ma adesso sono ritornato a casa, non vedo l'ora di onorare questi colori, di dare tutto a me stesso. Il 16 giugno il Cosenza ha salito in Serie B, la scintilla, quel tarlo in testa, ti è arrivato quella sera, un po' prima o un po' dopo? Sì, già dico la verità, io in semifinale contro il Sud Tirolo ero qui allo stadio, è stata un'emozione fortissima, soprattutto il calore che hanno espresso i 20.000 tifosi. Una volta poi vinta la finale a Pescara, il Cosenza è tornato in Serie B e per me ci ho pensato, ci ho pensato insieme ai miei procuratori e poi alla fine è stato fatto tutto così velocemente che quasi non mi sembrava vero. Partiamo da Ascoli adesso invece, è stato un bel banco di prova per un Cosenza rinnovato, con un centrocampo, con Garritano all'interno, è stata una prova comunque superata a pieni voti. Poteva andare meglio per il risultato, è stata un'ultima distrazione che costa da cara, però devo dire che il Cosenza ha dimostrato di poter stare in Serie B da subito. Sì, siamo un bel gruppo, un gruppo forte, sarà la nostra forza, è proprio appunto il gruppo, in modo che poi i singoli si possano esprimere meglio. È stata una gara maschia, è stata una gara tosta, un campo che non ci ha permesso di esprimere le nostre doti tecniche, ma comunque sul piano della battaglia ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo portato via un punto, percato per gli ultimi minuti, magari potevano essere tre. Adesso la lunga sosta forzata, hai parlato di campo, infatti è stato protagonista anche nella gara con il Verona, il Marulla in questo caso, però si torna finalmente in campo, non vedevamo l'ora, noi, i tifosi e voi soprattutto che andate in campo. Beh sì, la voglia è tanta, anche magari dopo l'ultimo spiacevole evento, andiamo ad affrontare a Cittadella una squadra che è molto attrezzata, molto organizzata, è prima in classifica e dobbiamo cercare di limitarla in tutti i modi per uscire indenni dal tombolato. Adesso loro sono in testa della classifica, la forza del gruppo è il loro valore aggiunto, che può essere, deve essere anche quello del Cosenza, nelle due amichevoli, nei due test, il mister Braglia ha schierato due formazioni praticamente diverse, questo è il segno che Cosenza può contare su un numero di giocatori importanti. Esatto, esatto, ognuno si deve sentire importante in questa squadra, perché il campionato di Serie B è un campionato lungo, è un campionato duro, e quindi tutti quanti si devono sentire importanti per il Cosenza. Ognuno farà la sua parte, ne sono sicuro, cercheremo di dare il massimo. Ovviamente sono tutte partite, come dicevo prima, difficili, ma anche chi incontra il Cosenza non sarà facile batterlo. Poi ci spostiamo un po' e pensiamo già al prossimo impegno. Sogni sicuramente l'esordio in casa da Marulla? Eh sì, io non ci ho mai giocato, facevo racchetta a pale quando ero piccolino, quindi è un sogno per me, anche perché io sono nato davvero a pochi passi da qua, quindi sarà un'emozione fortissima, davvero enorme. Non saranno 20.000 come su Tirol, ma probabilmente tanti. Beh, lo spero, me lo auguro, perché comunque senza nulla togliere agli altri, noi siamo una grande tifoseria, c'è un grandissimo calore e ci danno una grandissima mano, sicuramente.